Eccoli qui, abbiamo accanto a me Shani Martin di 22 anni, viene da Velletri. Allora, su Carlo Verdone, papà tagli e non mi fate fare la tortura. Nomo la donna, nomo la donna, nomo, nomo, nomo. Oh yeah, donna grassa, grassa, that's all right. Oh yeah. Perché ricorda Tonino che il mondo è tondo e chi non sa stare a gala va a fondo. Te lo dice il tuo caro Ugo Tognazzi. Vero grande Vittorio? Lasciatemi perdere, io so Vittorio. A me mi piace solo il grande Domenico Modugno. Volare, oh oh oh, cantare, oh oh oh. Mezzo e casiccio, a schifeo finio, ho portato il numero uno dei numeri uno. Alberto Sordi, vai Alberto. Goodbye my darling, goodbye my love, nonnetta, nonnetta, ritmo, ritmo, nonetina, tu sei paralitica. Yes? Ma veramente sono Luca Giurato, un appallo su a questo grande studio. Abbiamo veramente... Buongiorno a tutti, D'Aldo Fabrici. È bella una donna che sparecchi. E lascia il bocaletto, accanto a due bicchieri. Giorgio Gabber. Col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne, clappappà. E no perché, ostia, e basta imitare me ragazzi. E ostia, imitate anche altri, che ne so. Sono Anna Moroni, quella da Prova del Cogo. Ti sei lavata le mani del sorro, il mio tesoro. Ti sei lavata le mani del sorro.